Ciao a tutti! Eh sì 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 ragazzi, anch'io ho deciso di inoltrarmi tra le spire di Twitch, insomma, dei miei colleghi per valutare con dei bei numeroni, ecco, le loro gesta sul loro canale, i loro contenuti e capire effettivamente come strutturano le loro live, se lo fanno bene, se lo fanno male perché io credo di poter giudicare dopo tutti questi anni di esperienza quindi, vediamo, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua, benissimo, benissimo vediamo, vediamo un po', intanto possiamo anche allargare un po', ecco, questa è la nostra tier list con tutti i nomi aggiornati, eh, così almeno, io conosco tutti, eh, bene o mai, però vediamo, vediamo un po' Andrea del 1988, quello che fa a livello divulgativo mi piace molto io non sono molto appassionato di storia, non sono una persona che comunque si documenta attraverso video YouTube, documentari sulla storia del nostro paese, ma anche, insomma, del mondo lui è bravissimo, verticalissimo sulla Seconda Guerra Mondiale, espertissimo di dittatori Hitler, Mussolini, insomma, tutti i dittatori più famosi della Seconda Guerra Mondiale è bravo, mi piace un sacco, come parla di fucili, di proiettili, di bombe è veramente fortissimo, sa tutto di artiglieria pesante e divise per me è un sette pieno, ma perché non mi interessa l'argomento? gli Arcade Boys, allora, il loro, allora, loro sono espertissimi di retro gaming sono veramente una bibbia a cielo aperto, qualsiasi cosa voglia dire sugli anni 80, 90, soprattutto, era 8-bit, 16-bit Dio l'abbia in gloria bravissimi in quello che fanno non sono molto d'accordo sul loro essere un pochino più chiusi con il discorso pad 9-pin, insomma, loro sono molto è quello, no, gatekeeper sui telecomandi quindi per me è un 6, un 6 perché secondo me dovrebbero essere più aperti Asso di Roma, mamma mia, allora porco Giuda, quanto cazzo mi piace allora, Asso di Roma, nonostante ovviamente sia legato alla sua squadra del cuore, la Lazio comunque riesce a essere aperto nei confronti delle altre tifoserie e per me, che non amo molto il calcio è divulgativo, ok? perché non mi piace l'argomento? 6, però è veramente un grande Atrix oh, allora Atrix come posso dire, ragazzi? cioè allora, facciamo un ragionamento a bomba io non disdegno necessariamente l'approccio campagnolo a un argomento di questa vastità però allo stesso tempo non mi va che si trascuri o comunque si creino delle falle conoscitive quindi si parli anche con ignoranza di certi argomenti tralasciando tutti gli addendum possibili immaginabili quando si parla di argomenti corollari al suo tema verticale mi può anche piacere però tu quando tocca altre sfere mi sembra un po' lacunoso quindi io direi un 4 eh sì Balotelli777 allora io non sono in topic 3 Barba Nera Barba Nera Barba Nera ragazzi io capisco che parlare di questi argomenti su Twitch sia difficile il lavoro che fa è incomiabile per questo lavoro di divulgazione su legne e fabbricazioni tessili importante bravissimo bravissimo quando parla di processo a stantuffo però io non lo capisco e gli do 5 Bobo TV allora Bobo TV da quando se ne sono andati Sedorf Oba Oba Martins e e soprattutto l'altro che giocava nel del Brescia aspetta era Binoleff calcio come si chiamava Martins no no Oba Oba Martins e quell'altro no e Dio Bobo non mi viene in mente no Char Charbuffi mi pare non lo seguo più con interesse ha voluto cambiare coraggioso gli diamo 6 per il coraggio Briz Briz madonna allora io non seguo Dota non sono un grande amante è un gioco strategico importante ammiro la sua calma nell'affrontare il gioco un professionista gli do un bel lotto oh Capitano Cima io allora io non so come fa ancora non riesco a capire forse è uno zainetto da streaming una una grande connessione però a quella satellitare probabilmente ma parlare di alpeggio parlare di lo sapete di allevamento di bovini e tutto per un canale Twitch penso che sia un argomento molto molto complicato eppure lui lo fa imperterrito non molla mai bellissime come sono bellissime le montagne che lo circondano ogni volta che fa live è veramente impressionante gli do un bel lotto no veramente incredibile c'è Duzzo c'è Duzzo con queste live interminabili queste live queste live dove si parla spesso di argomenti difficile da seguire ma se hai tanto tempo a disposizione incredibile sei un bel sei per la lunghezza ciccio gamer ciccio gamer va bene effettivamente non è uno streamer di Twitch è uno streamer di YouTube ma lo consideriamo come tale cariatide si può dire di YouTube simpatia a non finire un sorriso sempre per tutti una buona parola per chi non la pensa come lui veramente gli vogliamo un gran bene gli diamo un bel sette saidonia 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 purtroppo fa pochissime live e quando le fa durano una mezzoretta un'ora giusto per darci no quell'olivetta ecco saidonia è l'olivetta dell'aperitivo no quella c'è quella focaccina che se c'è si è contento ma non c'è sempre perché si concede con parsimonia è una persona che vuole fare una live quando gli va a lui come vuole lui con argomento come vuole lui ragazzi non rompete il cazzo a Francesco grazie mille gli do un 8 perché anzi un 9 guarda un 9 perché queste cose mi piacciono fare i cazzi tuoi Dada allora Dada 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 allora io non lo so è sempre difficile valutare Diego ovviamente perché c'è un'amicizia c'è un rapporto e quindi gli do uno poi abbiamo Dancolo lo streamer in vetrina colui che sfida un po' i maranza gli dà sempre fido da torcere esprimendo però le sue idee politiche condivisibili talvolta quando ne parla 4 perché è veramente un grande Davidaus porca troia che risate mamma mia guarda 7 gli do Delmo Delmo è verticale su Magic fa partite di Magic ti deve garbare l'argomento cartaceo però comunque Deluxe allora Deluxe è detto no anche officio ma delfini guarda gli do 6 Dread Dread cazzo ogni volta che lo guardo mi fa ridere perché è nel chill no e nel chill ragazzi c'è la verità 7 uh Druze Thunder mamma mia allora Druze Thunder mi piaceva tantissimo quando faceva Call of Duty Black Ops 3 poi quando siamo passati a altri giochi non l'ho più seguito che è un po' anche il suo difetto no? cioè quello di concentrarsi solo su un gioco purtroppo quando ti verticalizzi su un gioco quando poi lo cambi perdi pubblico a me mi hai perso però lo aspetto aspetto col grande ritorno sul nuovo Black Ops che sta per uscire quindi gli do un 6 Erenix Enerix scusate mi sono confuso perché c'è c'è un po' di delay allora Enerix oddio e mi sono piaciute un sacco le sue interviste a politici e insomma approfondimenti sociali possiamo dire no? la sua la sua intervista a Pecoraro Scania mi ha fatto battere il cuore perché comunque fa parte di una politica ormai lontana c'è stato anche un confronto con Borghezio molto acceso che ho apprezzato che ho apprezzato tantissimo c'è stato anche un approfondimento uno speciale sulla rifondazione comunista che ha visto anche i grandi nomi di un tempo è venuto anche per l'inguer mi pare a parlare con lui veramente un grande sicuramente ha i suoi difetti però il 7 per sfidare tutti i giorni la mafia anche perché mi pare è sotto scorta insomma glielo diamo Hank Hank ha saputo ritrovarsi oh Ercole Ercole però non fa più live come un tempo no zek2 allora mi piaceva più quando era in versione singola Pieric con il suo pacchetto di di carte ho sbagliato aspettate non so dove eccolo qua vabbè resta lì va benissimo Flokox porco Giuda allora oh che ragazzi ma cioè vi ricordate la sua maratona a Montenero cioè è stata una cosa incredibile 6 il frenesi il frenesi è nel suo prime ragazzi ormai c'è cazzo le risate i momenti belli puliti finalmente un intrattenimento come si deve equilibrato senza mai sforare senza mai pestare i piedi a nessuno trattando bene tutte le persone che gli stanno intorno soprattutto le donne quindi io direi che gli do un bel 10 bel 10 perché proprio no anche di un po' di incoraggiamento eh sì eh sì 10 come i 10.000 sub che ha fatto più di un mese fa Gabbo di Squared vabbè pulito raffinato amabile articolo indeterminativo gli do un bel 7 Gabbrone però Gabbrone sì ora streama su Kick ha avuto un percorso travagliato lo sappiamo gli si dà un 5 perché comunque si merita una seconda terza quarta possibilità è un ragazzo Junkle Junkle beh beh ragazzi Junkle costruzioni tecnologia veramente veramente Junkle Mamma mia che paura mi fanno le sue creepypasta i suoi horror mi fanno impazzire ho scoperto tante cose che non sapevo prima del videogioco horror e quindi eh sai sai com'è lo si ama lo si ama lo si ama indistintamente grazie Junkle veramente per tutti gli spaventosi che mi hai fatto prendere ti do un settone proprio pieno Grimbaud Grimbaud allora posso dire ultimamente con il suo format quello nella casa mamma mia raga ma quella qualità lì raramente si può raggiungere sul web punti camera ospiti colpi di scena e VIP del calibro di Francesco Corona gli do nove mai visto prima esatto abbiamo Gischianto il re delle maratone saponose sapone allegria e tanta napolenità Axo Axo ci ha fatto un quiz con Poli di Dossette noi abbiamo Hollywood allora ragazzi chiariamo una cosa a me non interessa dello scandalo che ha convolto Hollywood il suo trasferire gli abbonamenti Prime in Chupa Chups in azioni della Chupa Chups ha sicuramente sconvolto un po' però ragazzi cioè non siamo più delle persone terra terra investiamo buoni Parmalat Bond Angertini sono tutte cose che comunque Telecom Serbia sono tutte cose che fanno parte di un imprenditore soprattutto di uno streamer che ha livelli grossi e che vuole reinvestire il suo capitale come può con le sue aziende gli do 8 comunque per dargli coraggio perché sta passando brutto omiatol vabbè ragazzi omiatol il goat il goat la cariatide storia il goat il king goat 10 nezak porco giuda nezak mi fa difficoltà a parlarne perché tutte le volte ripenso a un nostro vabbè la nostra vacanza in crociera ci siamo guardati eccetera ma è stato è stata un'emozione straordinaria essere a contatto con lui perché ho visto un professionista a lavoro che mi ha insegnato tanto e che quando insomma siamo poi tornati a terra si può dire che eravamo in mare beh eravamo tutti e due un po' diversi lui soprattutto infatti poi si è dovuto rifare ecco con delle donne un grande però non ti ho dimenticato nezak non ti ho dimenticato torna quando vuoi ti do un bel un bel otto perché moltiplicando per due si ottiene la dimensione del tuo pene anzi diamo 10 allora per questo discorso sempre della moltiplicazione Gianmarco beh il king il king uno il più forte è forte è proprio cioè lui raga ma oh 70 mil record e il treno record gli spettatori poi alti e pubblico grande numeri pazzeschi virale re 10 ho detto che tutto numero 1 numero 1 nella classifica dei numeri più grandi rossigno 104 rossigno 104 è il rosso più bello di twitch non lo so è lui non lo so chi è chi è si va bene allora il rosso ragazzi cioè se c'è allora tutte le persone ultimamente hanno da ridire su questa piattaforma dicendo che c'è solo merda ci sono solo dissing ci sono solo persone che parlano male di altre persone o che parlano comunque in generale dei fattacci delle altre persone io non sono d'accordo e il rosso è quel caso simbolo che rompe questo luogo comune che distrugge questo muro di pregiudizi nei confronti della piattaforma amore freschezza divertimento cultura approfondimento attualità nessuno è meglio del rosso dio madonna il veneto porca ecco qua qui devo tornare un po' indietro perché se ho parlato di cultura attualità eccetera geopolitica eccetera abbiamo il veneto che insomma è un po' no è un po' più rozzo un po' più greve mamma mia ragazzi quante parolacce gli diamo 5 è un po' troppo volgare è un po' troppo volgare il gatto sul tubo giochi che non fa nessuno gameplay che non fa nessuno approfondimenti su giochi sconosciuti bravo i termosifoni idem come sopra Ivan Greco allora Ivan Ivan lo amo perché è un artista poliedrico cioè si concentra sulla politica e poi panino con le assage facciamo un'intervista magari a un candidato sindaco e poi apriamo un buco di culo per sputarci dentro ma cioè si va alto e basso e questo mi piace perché è nel dualismo che sta il grande complotto della vita gli do 8 versatile Jody Jody ragazzi allora Jody è una persona che si adatta giocherino beh se non si adatta Jody come non fa adattassi giocherino JTaz parla di film e gli do 6 Kasumi Sen allora Kasumi Sen gli do 1 ma allora perché gli do 1 perché mi ha rubato Nezak ecco si King GM oh allora King allora King King dobbiamo fare un discorso non mi puoi sempre copiare così cioè io capisco che mi hai sempre detto che sei un mio grande fan mi ami eccetera segui tutte le mie rubriche e tutte le cose però devi smetterla di copiarmi devi smetterla di citarmi devi smetterla di essere il mio simulacro per favore ok io guarda ti do un 6 però cerca di differenziare un po' Kokashi allora Kokashi è una streamer che quando parla di cucina mi piace tantissimo mi cala un po' sul discorso Israele-Palestina perché comunque secondo me ci sono dei buchi qua e là nella storia nel racconto eccetera però si affanna per riempirli con grandi aspetti che invita sempre in live secondo me alternare ferramenta cucina Israele-Palestina sono cose un po' altalenanti cioè bisognerebbe trovare un fil rouge che omogeneo è il canale però comunque 8 giorni su 7 fa attualità e gli altri li dedica al resto d'altronde la ferramenta è sempre stato un suo hobby buloni viti brugole a freno quindi gli diamo un 9 per la varietà dei contenuti ma non gli do 10 perché non riesce a malgavarli bene allora ah Croato Mist allora Croato Mist ragazzi ha una storia sulle spalle è un pedigree lungo un chilometro gli si dà un set anche solo per la storia e per il rispetto la voce di Daie Ale allora ultimamente lo seguo poco soprattutto perché ho perso interesse nei confronti delle piscine a freno poi infatti hanno fatto molte collaborazioni lui e Kokeshi però comunque per un po' soprattutto nel periodo della pandemia mi è piaciuto veramente tanto gli do 7 per i ricordi che mi ha dato Leutum ragazzi 8 oh guarda non dico niente perché no se no spoiler Lolo Lacustre vabbè il maestro il maestro assoluto Lolo ragazzi disponibile con tutti grande pene gli do un 7 Lomba Lomba allora Lomba è un grande player Luca King lo vabbè lo metto accanto a King GM perché comunque fanno parte della stessa crew Luce Luna allora Luce Luna sapete fa contenuti molto diversi si va dal canto alla come si chiama lì la cosa la termodinamica dall'intrattenimento così gioviale e carinerie varie alla fisica alla quantistica io sono convinto che crescendo può crescere anche il suo canale perché la maturità è il segreto per avere successo su Twitch Luke4316 vabbè ragazzi ma lui pesca no mi pare ora Lion lui dovrebbe lui non fa quello no lui non lo so vediamo vediamo Mangaka vabbè Mangaka non streama più vediamo uno Marcus Kron Marcus porca puttana vogliamo parlare del glow up che ha fatto vogliamo ragazzi eh vogliamo parlarne forte eh Dario Morcio vabbè non mi metto perché sono io Mario Stugnolo è troppo mio amico per valutarlo Davide Davide che gli vuoi di cioè Davide ha reinventato un progetto per reinventarne un altro cioè alterna vocalizza è veramente forte gli do un 8 per quello che fa martin 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 è più difficile da valutare da inquadrare perché è uno streamer notturno uno streamer che si nutre della notte e che ha un suo perché solamente se visto di profilo guardiamolo e accettiamolo nel 6 marza vabbè raga marza è enorme aggregatore virale gigantesco meme numeri veramente masseo masseo ragazzi oh non scherziamo masseo era qua con noi quando ancora non si faceva questa cosa dei numeri Matteo HS allora Matteo HS quella maratona quanti ricordi Marco Merrino ok beh Marco però non si può separare da Daniele secondo me c'è non c'è sdrumox dov'è sdrumox raga non lo trovo mio dove cazzo è cazzo è sdrumox raga non lo trovo dovrebbe andare in ordine dovrebbe andare in ordine di no non lo trovo raga non lo trovo non lo trovo non lo trovo niente no 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 non c'è vabbè facciamo che Marco Merrino e Daniele sono un'unica entità michelle puttini allora michelle è un po' come il discorso che facevo ieri su gli squali termosifone cioè loro hanno un controllo totale della loro live e non si lasciano intimidire da lasciate non si fanno inglobare da da essi sette mollu ragazzi mi fa fa delle risate incredibili perché non lo so il suo sorriso il suo compenetrarsi perfettamente a quella che era un tempo la Melagodocru beh mi ha regalato delle emozioni veramente forti Moonride allora Moonride facciamo così se a power diamo 9 per la sua comunque per la sua stoicizzazione no perché ha fatto la storia della piattaforma a Murray gli diamo 6 perché è come power rovesciato Nairam oh bene 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 Nairam allora qui bisogna fare una riflessione un po' diversa perché Nairam è un è un canale solo di visual cioè lui crea solamente il come si allora lui crea delle queste grafiche pazzesche di colori forme che si intrecciano tra di loro è un canale di sfondo è come quel non so se avete presente il cammino finto a Natale nel maxi schermo ecco un po' con la roba lì e queste visual queste queste grafiche incredibili che crea sono meravigliose però ragazzi è tappezzeria sottofondo non è un canale sono concept esatto Nairam è troppo amico e quindi un po' come Diego e Mario non riesco a valutarli con con la giusta proporzione palessia allora palessia parla di case di anziani lei va lo sapete insomma visita delle case abbandonate case di anziani dà dei voti le recensisce tutto questo in IRL veramente fortissima sicuramente un canale atipico rispetto a tutti gli altri fortissima veramente soprattutto la live maratona di beneficenza sull'RSA durante il periodo del covid tra l'altro mi è piaciuta tanto quindi diamo un bel otto Nefastone suona il violino abbaiato aspetta bravissimo Paolo Cannone fa giochi che non mi intrigano però gli do 7 gli do 7 perché l'uno rovesciato è il 7 beh non male basta allungare un po' Piz allora lui fa contenuti per bambini no? fatti piccoli Piz ragazzi diamoli 7 basta Poldo Poldone Poldone però più bravo come youtuber che streamer vero? diamo 7 Poli Poli è un amico non riesco a valutarlo bene gli diamo 1 che comunque sono le mie valutazioni reali e ci tengo a dirlo Stormi diamo 7 perché ha 7 nel nome Sabaku ragazzi porca troia ragazzi che risate cioè tutti i giorni io se voglio ridere accendo Twitch e metto Michele risate senza Michel Puttini dammi 10 o mi scopo Agnese aspetta dove sei non ti vedo dove do me fatto e allora per quanto riguarda Sabaku io faccio risate risate a crepapelle e e quindi nulla Lupinux madonna è tornato grazie Lupinux per i 100 gift grazie di cuore grazie di cuore grazie di cuore ti abbraccio forte grazie al nome di tutta questa community come al solito come al solito Savi Ultra allora non mi piace molto perché tutte le volte si trova con i ragazzi insomma a menare le mani posa quel coltellino Savi Ultra e entra nel furgone della fantasia allora ti do 8 comunque perché comunque sei aggressivo e mi piace comunque l'aggressività Tuttwitch Sabaku risate a crepapelle gli do 10 perché tutte le volte guardo la su live piango dalle risate Turi Turi gli do 6 è un grande cioè non è che Turna allora Turna Turna che è questo streamer di Sorrento bravissimo che parla di agrumi vegetali veramente uno dei più forti però non mi è piaciuta l'ultima uscita che ha avuto su Rick Duferre c'è stato questo piccolo dissing tra di loro insomma su chi si vestiva più da anziano ha vinto Turna ovviamente però non mi è piaciuta ecco come uscita quindi lo ringrazio U Calabrese TV che fa mi pare lui fa moda 7 Velox anche lui un bel 7 perché comunque Velox in qualche modo l'ha fatta la storia del viva la fazza il chill il chill più chill che c'è quando guardi lui c'è chill cioè ti guardi lì ti rilassi il chill la tranquillità live intime chill Volpe Volpe ragazzi come si fa come si sarebbe anche lui di fi no ragazzi siamo agli altri non ci si fa a valutarlo sarebbe troppo di parte Chiuderone beh ragazzi le risa allora lo sapete qual è il discorso di Chiuder ragazzi è che varia molto è imprendibile è incomprensibile non riesci mai a inquadrarlo in una sola dimensione perché è poliedrico un giorno ti fa questo un giorno ti fa quello cambia non lo riesci a inquadrare molte persone si lamentano di questo perché dicono io non so mai che cosa mi fa Chiuder cioè io vorrei qualcuno che so cosa mi dà cioè il martedì c'è quello il mercoledì c'è quello invece Chiuder no non piace Chiuder non piace stare fermo un po' come direbbero i Potterhead come le scale cioè non riesce mai a fermarsi e quindi per questa grande varietà di contenuti questa grande eterogenità gli do nove dieci proprio perché non riesce a incontrare con la fetta di pubblico che per fortuna è piccola per Chiuder di persone che lo vogliono più preciso e verticale sui suoi giochi sui suoi argomenti Yoshi grandissimo fan di Nintendo lo seguo solo per le esclusive Nintendo anche se non mi voglio spoilerare molto spesso e quindi non lo guardo è il day one è l'unico difetto che ci trovo ma è un problema mio gli do sette Yotobi Yotobi gli do uno perché non sa affrontare una conversazione in privato o comunque non sa come si risponda al cellulare Zano o meglio lo sa soprattutto quando schiaccia la cornetta rossa bisogna premere quella verde più che altro però questo è il mio pensiero Zano Zano raga cioè Zano King aggregatore virale numeri classifiche numero uno King Zazzone porca troia anche qua sono in difficoltà Zazzone è troppo un amico gli do uno perché non riesco a valutarlo esattamente come tutti gli altri bene ragazzi questa è la mia tier list questi sono i miei gusti ovviamente sono gusti personalissimi so che ovviamente possono essere non condivisi l'unica cosa niente fatevi la vostra idea seguite chi vi pare vi raccomando ricordatevi sempre che l'intrattenimento questo è come l'amore si chiude una porta si apre un portone in questo caso il portone è twitch tier molto pensata si vede che ci rivettevi da un bel po' vabbè ma io ragazzi sono fan di tutti di tutti quanti a me piacciono tutti quanti mi sta venendo da piangere troppe emozioni lo so lo so ragazzi ma ci stava mettere anche il mio puntino ecco su questa cosa grazie a tutti grazie a tutti